Per il piano di Natale di Roma Capitale, DOT ha raccolto e accolto con grande entusiasmo la possibilità di offrire a tutti i cittadini romani una promozione ad hoc. Questa promozione prevede l'acquisto di un pacchetto ad appena 9,99 euro che permette di avere per i 30 giorni successivi tutte le corse alla cifra simbolica di un euro. Questa promozione è mirata non soltanto per il centro della città ma anche per le periferie, proprio perché crediamo alla possibilità di dare a tutti i cittadini un mezzo alternativo per la mobilità sostenibile. Vi ricordo quindi che per accedere a questa promozione bisogna scaricare l'app di DOT. Grazie.